bella vecchi trapani! Siamo in bianca! Finalmente una squadra normale! Dumbia! 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 Stiamo con la prima parte del giorno E vai! Speriamo bene! Siamo ancora in cerca della prima vittoria Dumbia! No 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 dai ricordi! Non è ricordi! Non me puoi dare! Ma perché gli ha dato la spinta? Ma chi gli ha dato la spinta? Gli stavano a prendere palla! Che bello cominciare così eh! Proprio subito con l' handicap proprio Mh quel sapore di sconfitta che dà un non so che in più! Capito? Bello! Complimenti! Cultuante! È veramente un parale di cuore! Devi prima fare un passetto a destra e poi tutto altro a destra! Sempre così devi fare! Guarda per cazzo sa! No perché? Poi ti vanno avanti! C'è sta cosa che devi tirare per forza da fuori! Mi ha dato col sinistro! 的是ì! Ordo addoltre che posso smokinino! Eh è così lì oh! E' questa maledizione oh! Niente, se vaffancazzo Sono diventati tutti i forti miei laseri Ah, quei nostri che costano 3 milioni in uno Sono diventati tutti stupidi Sono diventati dei cazzo di mostri I nuovi mostri Senti, lì c'è stava coso C'è stava già così, ma lo saltavo Guarda la ripresa lui Guarda lui, vuoi Ma perché? Perché ci corre accanto Non so, si guarda il pallone perché gli piace Questa partita è bello Oh Vedi come si racconta di cosa Meno male va Grazie Che mi parevo carezza Grazie Che tristezza Dai, dai Stiamo a 68 stiamo volendo se non ancora fa Che cazzo Dai Mamma mia Sì, è una brutta pari uscita Però vabbè Il silenzio potrei notare La concentrazione Mi chiederebbe Ti riconosce Lo troppo da fi Con qui Mi chiedeva E' una brutta pari uscita Mi chiedeva Io ti sto ecco qua la seconda partita la notazione 73 intesa 94 tranquilli perderemo anche con questo non c'è problema quello che è cosa? che si chiama? no no quello del Liverpool no è uno forte ora sta a giocare non mi ricordo come si chiama è quella stessa? eh sì non è più forte comunque vediamo se riusciamo a pincere sta partita jesus c'è lì in caso che dovesse oh è entrata è entrata vabbè purazzeo bam dai vi chiamo sto brio porco brio porto il brio bella inutile ma perchè non la stoppa prima? ma perché non la stoppa prima? ma penso la stoppa c'è penso la stoppa che cazzo sta succedere? così in confusione allora che questa allontesimo cioè pareggia ma per me pareggia pure prima allontesimo massimo vince ottimo cari via lui ottimo vedi vedi vabbè vabbè lo detto il 72 pareggiava prima nooo io giustamente ho pensato sono due uno dei tuoi avvierà no se mi c'è da fare la chetata del divensore dai ma non che fallo porco demonio mortacci tua di quando descansano con soffio no comunque l'alfallo è scandaloso che non è andato rigore ha dato i rigori ha dato i rigori ha dato i rigori no 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 ma si cazzo no 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 ma che è davvero ma vaffanculo va ma c'è se l'ha sbagliata apposta è in grande perché è un grande grande io non ce voglio dire raga cioè rendetevi conto di cosa è questa divisione comunque no probabilmente l'ha sbagliata apposta perché ha tirato troppo veloce vabbè ciao